ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo episodio di mine test innanzitutto aggiornamenti dallo scorso episodio allora qua dietro ho posizionato ben due medium voltage solar panel e ho upgradeato sia il grinder che la fornace che l'alloy furnace l'alloy furnace vi ricorderete che nello scorso episodio non funzionava in modo corretto ho risolto semplicemente rompendola e ripiazzandola probabilmente non era stata aggiornata, cioè c'era da aggiornare il blocco in seguito agli aggiornamenti della tecnica che ho aggiunto in seguito e quindi si è risolto tutto questo è collegato con il medium voltage, questo rimane con il low voltage ma credo che dovrò andare a smantellarlo nel frattempo sono anche andato a minare e ho fatto un po' di agglomerati perché avevo un pochettino troppa roba nell'inventario, cioè nella chest e ho trovato anche del mithril, il mithril lo utilizzeremo poi per fare una cosa che si chiama non mi ricordo più, però se la vedo e la conosco scusate questo farfallio è strano è perché sto provando una versione diversa di minetest perché dovrebbe non crashare ecco qua, questo qua si chiama prospector e serve per localizzare dei minerali utilizzo dell'energia per cercare in un determinato volume se c'è per caso la presenza di quel minerale lo potrò utilizzare, mi sarà utile sia per il mithril che per il silver che sono due materiali abbastanza rari che però servono discretamente e in più quando troveremo dell'altro mithril potremo upgradarci gli oggetti credo che sia più prestante del diamante lo valuteremo comunque intanto come potete vedere qua c'è stato un pochettino di di mining insomma torniamo su, devo aggiornarvi rispetto a altre due cose che sono successe allora la prima è che avendo intenzione di fare alcune cose con la lana ho messo del cotone qua dove c'era già ma ho scoperto cioè l'ho verificato due volte che appena ha cresciuto il cotone appena ha cresciuto completamente sparisce e viene sostituito dall'erbaccia questo credo sia un problema legato al fatto che io la farming plus che ho 1 è stata modificata da me e 2 è vecchissima e risale tipo alla 0.4.6 tipo un anno fa quindi suppongo che dovrò eliminare la farming plus e invece integrare finalmente quella default del gioco che invece ho disabilitato fino ad ora perché credo che sia un conflitto tra le due che mi impedisce di avere del cotone infatti tra l'altro ho provato anche un attimo in creative per quello che qua troverete un sacco di semi di cotone di cui mi sbarazzerò non so ne avrò avuti tipo è una ventina ne avevo di questi mi sbarazzo assolutamente subito e boh niente quindi quello ci ragionerò un attimo scrivetemi soprattutto voi nei commenti vi chiedo questo grande favore se secondo voi vale la pena tenere la farming plus con queste piante in più no forse potrei tenere tutte e due le modi in effetti perché la farming plus potrebbe cioè dovrei aggiornare la farming plus la farming plus è aggiornata a parte che è un po' vecchia non ha un modo per trovare i semi però io i semi ce li ho già perché ce li ho qua dentro quindi dovrebbe funzionare perché vi dico il problema è che questa versione della farming plus è della 0.4.6 nella 0.4.7 hanno inserito i semi in mine test base e quindi l'aggiornamento da farming plus ha disabilitato il ritrovamento casuale dei semi scavando la terra cioè arando la terra di conseguenza la versione per 0.4.7 non l'ho mai messa perché avevo bisogno di trovare i semi in un qualche modo perché era disabilitato questa è la versione nuova però attualmente se io mettessi quella della 0.4.7 su questo mondo esistente in questo mondo esistente ho già i semi là quindi quel problema non si verificherebbe e in più potrei abilitare la farming normale e dovrebbe risolversi questo problema del cotone dovrebbe non avremo più queste piantagioni di latte e uova e quindi dovrei togliere la food diciamo perché sarebbe abbastanza inutile perché provvederebbe poca roba in più nel frattempo però aggiornando la plant lab di Vanessa sono state aggiunte alcune cose tipo i cespugli che finora non avevo degnato di uno sguardo gran che è sguardoso insomma però un attimo andando a esplorare qui vicino da queste parti adesso non mi ricordo più esattamente dove era qua dietro ecco ho trovato alcuni di questi cespugli che probabilmente sono spawnati qua perché non ne avevo ancora esplorato questa zona anche se mi hanno garantito che dovrebbero spawnare anche in zone già esplorate non so comunque allora questi se vengono cliccati così danno delle delle bacche insomma con le quali si possono fare anche delle torte quindi secondo me questa può essere anche una valida alternativa per sostituire la mod del food e quindi un discreto modo anche per alimentarsi oltre a questo c'è quello era già qualcosa che avevo no cioè si cioè no questi erano anche fragole infatti non si vede più un kaiser di niente comunque e poi ho anche scoperto come si prendono questi perché se voi cercaste di romperli così non succede niente se scavate la terra sotto come ho provato a fare semplicemente viene eliminato scavando invece con una pala questo darà un ci darà il cespuglio e c'è una piccola percentuale che ce ne dia due e su questo no ce ne ha dato solo uno proviamo con questo ecco per esempio questo ce ne ha dato due due di strawberry adesso possiamo provare a prendere anche questo no vabbè non è indispensabile sono fragole fragole more vabbè per ora così ci va bene queste sono no queste forse non sono fragole no infatti questi sono lamponi quindi raccogliamo anche questo potrebbero essere interessanti potremmo metterli al posto di non si vede un kaiser di niente quindi direi che facciamo così e così me l'ha detto good night si e quindi è una cosa interessante potremmo andare ad aggiungerli qui e espandere ancora ulteriormente il nostro orticello che non è granché per ora è un sacco di episodi lo so che dico che lo espanderò farò delle cose sensazionali fenomenali che voi non avete mai visto da nessuna parte e nessun gameplay italiano di mind test ma verrà il giorno verrà il giorno in cui succederà tutto questo detto questo cos'altro volevo dirvi mi pare di avervi detto tutto si mi pare di avervi detto tutto intanto controllo quanto tempo è passato poco 9 minuti stavo dicendo che l'obiettivo di oggi sarebbe quello di fare ah tra l'altro questo che vi volevo far vedere si possono fare con ognuna di queste bacche che sono blackberry blueberry che dovrebbero essere dei mirtilli anche se non sono proprio fatti così i mirtilli i lamponi e le fragole però scusa raspberry strawberry gooseberry le gooseberry quali sono scusa ah questo cos'è un gooseberry non lo so non riesco a capire che cosa sia comunque quindi ci mancano due tipi i gooseberry e i blueberry che potremmo trovare con ognuno di questi si possono fare vero si delle torte con la ricetta simile tre bacche due zuccheri e una cosa di farina la farina viene fatta con il grano che è appunto il grano quello della mine test default e cotte ci danno una torta che ci da sei fette e la torta tra l'altro può essere staccata diciamo in contenitori che sono questi basket qua tra l'altro sono due quattro sei perché così tante blackberry blueberry gooseberry ah mixedberry c'è ancora mixedberry che è fatto con blackberry ah forse possiamo mettercene varie cioè scelta ah group berry e qua group sugar sugar food sugar o bush's sugar ah perché questo qua è del food ok del food sarebbe molto più conveniente questa ricetta vabbè comunque molto interessante non sapevo non conoscevo questa opzione della della crafting craft quindi detto questo il nostro obiettivo per oggi non è più quello dell'altro episodio ma è quello di creare due macchinari che esistono forse già con low voltage ma non abbiamo mai creato che sono l'extractor e si esatto l'extractor e il compressor per entrambi vengono poi dopo upgrade gli upgrade e rainbow o insieme al medium voltage quindi mettiamoci subito al lavoro facciamo 4 treat up quindi ho bisogno di legno 3 stick e pneumatic tube quanto legno abbiamo qua ok devo fare qualche stick e ho bisogno di 4 pneumatic tube ce l'abbiamo 4 pneumatic tube no come si fanno i pneumatic tube 6 plastic sheet ne ho 2 come si fanno i plastic sheet unprocessed plastic base ne ho no ma quello mi pare che si faccia con con le foglie foglie qualsiasi ok questa cosa del group ma mi era risolto la vita è una cosa spettacolare quindi facciamo che pigliare questo tra l'altro abbiamo una chainsaw che non abbiamo mai utilizzato ma la mela non so cosa fare ma la mela io ho bisogno di questo ok ora la mela la droppo perchè ho notato che gli oggetti desponano dammi delle foglie ho bisogno di 6 foglie per fare un cosetto la o questi possono essermi utili per la colla possono esserci molto utili per la colla sarebbe molto comodo in questi casi la questione di raccogliere oggetti tipo in minecraft però devo dire che con il fatto che desponino non è che sia troppo grave ah ma avevo già 43 foglie vabbè gg se io facessi copy to crafting grade 10 cosa succede niente forse perché ci sono i group allora riusciamo a fare anche questo perfetto queste due le lascio qua tra l'altro ho raccolto un po' di fiori per far pulizie fuori ma credo che andranno di nuovo raccolti ha tra l'altro messo l'area battery negli upgrade slots perché diminuisce l'energia utilizzata e quindi è una cosa molto comoda l'unico a cui non posso metterlo è il tool workshop ed è molto comodo tutto ciò ecco se io cercassi di fare scuse me extract ora noi stiamo facendo quindi se io andassi su questo se io andassi su questo se io andassi su questo e gli dicessi copy oh questo me lo fa e se gli rivado così e gli dico all wow questo è troppo bello finalmente qualcosa che funziona in modo spettacolare allora di questi ne abbiamo bisogno adesso abbiamo bisogno di 4 di questi perfetto poi erano 4 stick ognuno quindi una roba del genere proviamo a vedere all mi manca cosa ah perché non me lo prende quello perché è group non sono staccabili perfetto cioè perfetto fino a un certo punto ma va bene gg 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 quale ce l'abbiamo abbiamo bisogno di un il cavo ce l'abbiamo già giusto per curiosità così lo prendiamo eccolo abbiamo bisogno di un motor electric motor quindi un copper ingot e questi carbon steel questi qua sono fatti con quindi bisogno di 8 iron e per questi qua sono 3 6 9 12 12 copper e 8 iron allora 1 2 3 4 5 6 7 8 poi dopo penso anche al resto non vi preoccupate e 8 copper facciamo 1 di no quante si 8 copper erano 3 6 9 12 quindi questo dovrebbe bastarmi perché sono 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 lo metto qua e poi ho bisogno di questi che sono iron e coal dust quindi prendiamo però ne ho bisogno di quanti 6 quindi 6 iron e 6 coal dust dove è andato? no ok adesso funziona magicamente tutto per fortuna intanto cosa ci serve di altro vediamo questo che è fatto da ok 9 e un brass ingot forse l'avevo fatto un brass ingot per sbaglio eh si non mi ricordo più per quelle ragioni ma ne avevo fatti e ho bisogno di 9 di quegli affari l'acqua quanti me ne ho fatti 6 infatti e là ne ho bisogno di 9 8 così sono giusto 8 però ho bisogno di 8 di carbon dust di coal dust e qua ne ho solo quelli quindi facciamo che prendere un blocco convertirlo in in tutto quello che è convertibile e lo mettiamo a grindarsi grindati ok tra l'altro sto pensando di creare un altro battery box medium perché questo si scarica molto rapidamente con un tool workshop nonostante abbia due pannelli solari collegati quindi dobbiamo pensarci vado a dormire perché se no si scarica tutto me lo hai detto goodnight chat show no mi dice goodnight voglio dormire questa roba un po' bugata ma ehi forse non è ancora sufficientemente notte dove è andato eccolo qua 8 e di 8 ne avevo bisogno in effetti quindi adesso dobbiamo fare questo facciamo così no così non c'entrava niente però possiamo pulire tutto facendo così no infatti ok carbon steel non sono carbon steel scusa oh no cast iron ingot che sono fatti con carbon steel e coal dust quindi avrò bisogno di altri coal per fortuna ne ho fatte più di quello che mi serviva ecco qua intanto qua mettiamo a riparare e lascia prefetto del pretorio sei lento l'altro credo che ci richiederà abbastanza lavoro e credo che non ce la facciamo per oggi a fare tutto quello perché sono già passati più di 20 minuti quindi l'extractor possiamo farlo anche per la prossima volta così abbiamo qualcosa di interessante oppure posso farlo io off camera non lo so adesso vediamo se faccio così ho un low voltage extractor adesso per fare quello avrò bisogno di due di quelli e ce li ho 4 stainless steel non so se ce li ho ho un medium voltage non so se ce li ho sì ho un medium voltage perfetto due di questi diceva i stainless steel temo di non averne ne ho 3 ma me ne servono 4 come si fa questo carbon steel e chromium oddè carbon steel non ne abbiamo più allora operiamo rapidamente questi ne ho fatti anche troppi qua carbon steel avrò bisogno di altro coal dust però un 2 sì facciamone solo il numero giusto un chromium ingot ce l'abbiamo dov'è il nostro chromium zinc tin vrude gold coppa silva chromium eh dovremmo andare a cercare un po' di chromium perchè non ce n'è tantissimo furnace cuoci questo in lingotto questi sono 3 togli metti metti e togli perchè quelli erano ancora là lo sa soltanto lui facciamo così ora dacci il mal tolto ok perfetto adesso quelli ce l'abbiamo ci manca lui che sono 2 fiber 5 carbon steel e quegli affari là quindi 1,2,3,4,5 e ce li teniamo da parte ho bisogno di altro carbone facciamo che mettere 18 sto giro a a grindarsi così ne dovrei avere per un attimo 2 fiber vediamo se abbiamo dei fafting fiber sembra di no quindi dobbiamo cuocere della glue se non sbaglio esatto però questo sta grindando questo sta cuocendo sta cuocendo quindi cuociamo questo questi ce li abbiamo quello l'ha cotto ho bisogno ok ho bisogno di fare questi no perché ne ho fatto solo uno ne avevo bisogno di due no cosa combino mai una ok abbiamo scoperto che non si pulisce ah ma non ne ho neanche più abbastanza ok kaisersberg allora dammi due di questi va un due no un due tre non esager adesso ah no ho bisogno di altri uno e se faccio così gg adesso vado così così e gli dico uno e gli dico uno perfetto adesso vado così così e gli dico uno e gli dico uno sì ce l'abbiamo fatto io sono molto tentato dal metterlo qua sì 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 tanto questo non ci servirà più ne manco questo ne manco questo ne manco questo ne manco questo manco questo manco questo e manco anche questo dai Ok, riempiamo con la nostra amabile Dirt La Dirt è il futuro della tua vita No, ok, magari anche no Però potrebbe esserlo, quindi perché non prenderla in considerazione No, abbiamo bisogno di uno di quei cavi di super medium Allora, innanzitutto speriamo dentro questo, questo No, questo ci serve, questo, questo E facciamo su sort Poi prendiamo, un, due, tre, qualsiasi Sei, mi pare che sia sei per uno O sei per tre, forse sei per tre Due, tre, un, sì, infatti Allora, noi facciamo così, così Mettiamo questo qua E dai, così Sono identici Ok, perfetto, non mi dice Ok, idle, quindi vuol dire che può essere presente Sono bellissimi Prossimo obiettivo sarà di fare il nostro extractor Ah no, questo era l'extractor Il compressor lo dobbiamo fare, quindi Che sarà Non troppo complesso, ma diciamo che è neanche troppo semplice Compressor E sì, avremo bisogno di altro silver, electric motor, stone Machine casing È discretamente complesso, ma non troppo, diciamo Allora, deposito questi qua Questi qua Sortiamo tutto Vediamo se uscendo si sorta lo stesso Secondo me Secondo me Sì, ma Sì, sì, perfetto Detto questo Ho assolutamente bisogno di Fare una cosa Adesso vi spiegherò perché No, potevo andare anche meno lontano Effettivamente Quello che sto cercando è un unknown block Adesso vi dirò il perché E non abbiate mene male Ce ne erano anche di qua vicini Dai, dammene uno È là Però dove devo arrivare Prendolo, scusa Voglio un unknown block Dai, dammi quello Dov'è? Sei qua sotto? No, è là Yes 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 Adesso facciamo una cosa del tipo Ecco E ci richiamo al momento conclusivo del video Allora, per concludere questo video Sto a giro, mi ricordo C'è il Solito giochino Chi non ha mai partecipato Bisogna semplicemente rispondere Alla domanda che dirò nell'episodio E dire l'oggetto con cui volete essere rappresentati Chi risponde per primo Avrà un Un punteggio migliore E questo è come se fosse una Un gioco dell'oca, insomma Questo qua è Alessandro per ora Che è arrivato a tre punti La domanda dello scorso episodio era Quanti stack di cobblestone sono presenti nella chest che ho aperto durante il video Quella nella stanzetta sotto di storage della cobblestone La risposta esatta era Quaranta stack Sia Sam che Alessandro hanno dato la risposta giusta Alessandro proprio sul filo del rasoio Sam l'ha dato per primo Quindi io direi che Alessandro va avanti di un punto Perché ha risposto correttamente Mentre Sam Visto che ha risposto per primo Lo metterò a due punti Sam non mi ha iscritto Con che blocco vuoi essere rappresentato Quindi ho pensato benissimo Di mettere un blocco Sconosciuto Perché non è conosciuto il blocco con cui vuoi essere rappresentato Detto questo La domanda per il prossimo episodio è semplicissima Ed è Ditemi il nome Di uno youtuber italiano Che fa video in italiano Quindi Cutie Pie Marzia non vale Che abbia più di 100.000 iscritti Quindi questa è la domanda Se qualcuno non ha ancora mai giocato Metta anche l'oggetto con cui vuole essere rappresentato Io vi saluto Vi invito a iscrivervi A lasciare un mi piace Per questo episodio A mettere mi piace Alla pagina facebook Di cui trovate il link in descrizione E noi ci vediamo Con il prossimo video Di Mindtest Sabato prossimo Oppure lunedì Per la nuova serie Misteriosa Che serie sarà? Ci vediamo lunedì Ciao 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 Ciao